Intessa sui controlli della Polizia Municipale, tre comuni di Raguse e Santa Croce Camerina. Il tutto per garantire maggiore sicurezza nel periodo estivo nelle frazioni balneari di Marina di Raguse e Punta Bracetto. I due sindaci, Peppe Cassie e Giovanni Barone, insieme ai rispettivi comandanti delle due polizie locali, hanno quindi stilato un programma operativo per la gestione del servizio di Polizia Municipale a Punta Bracetto. Dal 2 agosto e fino all'8 il servizio sarà garantito dalla Polizia Municipale di Ragusa. La settimana seguente invece sarà il turno della Polizia di Santa Croce e così via con cambi settimanali fino al 19 di settembre. Nei giorni scorsi, ha dichiarato il sindaco di Ragusa, Peppe Cassie, ho sottoscritto un protocollo d'intesa con il sindaco di Santa Croce Camerina Giovanni Barone per la gestione del servizio di Polizia Municipale di Punta Bracetto, il cui territorio ricade su entrambi i comuni. L'obiettivo è superare anche quest'estate la gestione disgiunta e separata che in passato ha dato luogo ad evidenti anomalie operative, in alcuni casi con l'impossibilità di procedere ad accertamenti o contestazioni e in altri con l'intervento di più pattuglie quando ne sarebbe bastata una sola. Con questo protocollo il controllo della viabilità sarà invece alternato tra i due comandi, con potere di intervento anche in territorio diverso da quello di competenza.